L'incontro periodico con il giornalista collega Pierluigi Bonora questo mese è avvenuto al Forum Automotive di Milano. Un'occasione per parlare di mobilità e per ascoltare un'attenta analisi sull'evoluzione del settore con il nostro opinionista. Grazie Elisa per la linea, ci troviamo qui direttamente all'hotel Melià dove si è tenuto proprio in questa giornata il Forum Automotive, l'iniziativa coordinata dal nostro opinionista Pierluigi Bonora che intanto saluto e ringrazio di essere qui con noi. Grazie a voi. E proprio con Pierluigi andiamo subito a analizzare, andiamo entrando nel vivo di quello che è accaduto quest'oggi, partendo da un primo aspetto, quello con cui poi è nato un po' in realtà tutto il progetto targato 2015, quello legato al cibo. Quest'anno come sappiamo è l'anno dell'Expo, ci troviamo anche a Milano, quindi location naturale per abbinare i due concetti. Cosa significa abbinare il cibo all'automobile? Beh, come noi siamo esseri umani dobbiamo essere nutriti, anche l'automobile non è un essere umano, è un pezzo di ferro come viene detto e deve essere pure nutrita, nutrita da alimenti sani, noi dobbiamo stare attenti a non ingrassare, l'automobile deve stare attenta a non emettere scarichi dannosi, a non inquinare, quindi va anche a mangiare un cibo che le permette di essere sicura. E quindi abbiamo fatto questo parallelo Expo con il settore dell'automotive, c'è stata una serie di dibattiti dove si è approfondito il tema dell'alimentazione perfetta, sia all'auto che alla persona che guida l'auto. E poi si è parlato di mercato. Ecco Pierluigi, proprio a questo proposito abbiamo raccolto una testimonianza, quella di Gabriele Monecat, PR Manager di Bosch Italia, un'azienda da un punto di vista di sicurezza sempre impegnata in questo aspetto. Bosch ha sviluppato tantissimi sistemi di sicurezza che oggi sono presenti sulle vetture di ogni segmento di mercato, dall'SP all'ABS. Andiamo a sentire il suo contributo e poi rientriamo qui. Esiste un link molto diretto tra un'azienda tecnologica come la Bosch e il tema di oggi del forum automotive che è quello legato all'alimentazione. Infatti il 90% degli incidenti è causato da un errore umano. All'interno di questa percentuale circa un terzo è riconducibile proprio al tema dell'alimentazione, ovvero al mangiare, bere in vettura. Questo ovviamente porta distrazione ed è causa di incidente. La tecnologia in tal senso ci viene in aiuto in quanto esistono dei dispositivi che sono in grado, come ad esempio la frenata automatica predittiva, di intervenire evitando o comunque riducendo al minimo le cause dell'incidente. Beh Pierluigi, un dato significativo, secondo quanto ci ha raccontato Gabriele Monecati, il 90% degli incidenti avvengono per un errore umano. Distrazione, errore umano. Tant'è che la tecnologia Bosch, in questo in prima linea, insieme anche ad alcuni costruttori, produttori concorrenti, rende a questa missione ancora più sicura l'automobile attraverso sensori, radar che sono in grado di percepire se la persona al volante sta per avere un colpo di sonno, classico biocco, se si sta avvicinando troppo alla macchina che la precede. Quindi scattano questi dispositivi che addirittura frenano l'automobile. Abbiamo parlato quindi di un cibo, un cibo importante, non solo per il benessere umano, ma soprattutto per accompagnare al meglio chi si mette la guida o chi viene trasportato con qualsiasi veicolo, si muova sulle nostre strade. Ma è anche vero che la traslazione di questo aspetto va vista anche in un significato nel dare energia a un settore che ha sicuramente bisogno di una ripartenza. Noi, prima di andare a commentare questo aspetto, abbiamo raccolto anche in questo caso un'opinione, quella di Gianprimo Quagliano, che è uno degli analisti più importanti in Italia del mercato automobilistico, che ci dà una chiave di lettura su quelli che sono i numeri del mercato attuale in prospettiva nei prossimi due anni. È un momento interessante, il mercato è cresciuto dell'11% in gennaio, del 13% in febbraio e sembra in ulteriore accelerazione. E questo sia per il mercato delle flotte che per il mercato dei privati. Quest'ultimo è il dato più interessante, fra l'altro c'è anche l'elemento assolutamente nuovo che è costituito dal fatto che i privati accedono anche loro al noleggio a lungo termine come le aziende. Io nel prossimo triennio prevedo che ritorneremo al volume fisiologico per il mercato italiano, che è tra il 1.8 milioni e 2 milioni di otto di immatricolazioni all'anno. Una stima di circa un milione e mezzo di veicoli per il 2015, quindi un segnale importante rispetto a un mercato in grossa difficoltà negli ultimi tre anni, ma soprattutto, la cosa forse più determinante, un triennio prossimo che servirà un po' a riportare il settore ai numeri del 2008-2007. Sì, siamo ancora lontani dai grandi numeri del passato, il mercato però deve abituarsi a confrontarsi con uno stato dell'arde che non prevede più 2 milioni, 200, 2 milioni e 500 mila veicoli come è successo un po' di anni fa, ma ad aggirarsi su 1,6, 1,7 e se va bene 1,8. A questo proposito citiamo in maniera determinante l'intervento del nonorevole Capezzone, che in realtà è un politico che segue da anni l'escursus di questi appuntamenti. Diciamo che è l'unico politico che steriamente sta seguendo i problemi del settore auto, ma non soltanto come persona che recepisce le istanze, ma anche propositivo. Il punto di partenza è questo, già l'Italia è un paese in generale massacrato di tasse che hanno bloccato la ripresa e hanno peggiorato la crisi, il settore automotive è una vittima ancora maggiore di questo meccanismo, il cittadino soffre sempre, soffre per la crisi, soffre per il bollo, soffre per l'imposta di trascrizione, soffre per la bassa deducibilità delle auto aziendali, soffre per il costo delle assicurazioni. Io penso che lo Stato attraverso il fisco debba restituire qualcosa del troppo che ha tolto in questi anni. Per questo da un anno io ho avanzato una proposta ragionevole e coperta con corrispondenti tagli di spesa pubblica che è centrata sulla abolizione del bollo auto per tre anni, per tutti e addirittura per cinque anni per le auto ecologiche e poi nel riportare su a livelli minimamente più europei la deducibilità per le auto aziendali. Ci abbiamo provato già due volte in modo convinto determinato arrivando a un passo del traguardo, purtroppo la maggioranza di centrosinistra finora mi ha detto no. Io però insisterò perché ritengo che questa non sia materia da minoranza contro maggioranza, questa è una materia su cui i liberali devono continuare a offrire un'occasione anche a un governo di segno diverso dal proprio, ma davvero sarebbe un grave errore se in questo momento in cui ci sono dei piccolissimi segnali di ripresa non si cogliesse l'occasione per fare di più e per rilanciare la domanda interna che proprio in questo settore è vitale. Parole importanti da parte dell'onorevole che come giustamente ricordavi tu prima si è sempre schierato in prima linea a difesa del settore, sempre vessato a livello di tasse, di tutta una serie di strategie poco chiare da parte del governo che sembravano in qualche modo demonizzare l'auto e non incentivarla. Sono tre anni che l'onorevole Capezzone si sta adoperando per cercare di creare un ambiente positivo politico per l'auto, quindi io direi al settore di cavalcare questo cavallo tra virgolette che sta cercando veramente di fare qualcosa per il settore e non soltanto di fare delle promesse di organizzare dei tavoli che poi svaniscono nel nulla, bisogna crederci per poter rilanciare l'auto. Noi abbiamo sentito anche due altre testimonianze autorevoli legate al settore, si riferiscono quello dell'usato, in questo caso abbiamo ascoltato Giorgio Boiani che è il vicepresidente Asconauto e poi nella fattispecie Pietro Teofilatto che è il presidente di Aniasa che è la società che racchiude tutti i noleggiatori operanti del nostro settore, questo è un altro comparto che in questo momento nonostante la crisi sta vivendo di luce propria, andiamo a ascoltarli. Asconauto ha lanciato in questi giorni un'iniziativa che non è nient'altro che una risposta pratica alla crisi che abbiamo evidenziato anche oggi al convegno di cui abbiamo parlato ampiamente. La cosa che noi vorremmo ottenere è che venga sottolineata anche la qualità professionale degli operatori che noi dobbiamo assolutamente proteggere, che sono i concessionari, i riparatori, i carrozzieri di una filiera che assolutamente va salvaguardata. Si tratta di una piattaforma dove il consumatore può trovare l'usato certificato che significa che le informazioni che gli vengono date non sono solo delle informazioni sommarie che qualificano l'automobile dal punto di vista estetico ma entrano nel merito proprio della qualità tecnica e la qualità tecnica è ciò che noi confermiamo attraverso un certificato di conformità che viene consegnato al cliente nel quale noi diciamo esattamente lo stato di salute dell'auto. Nel noleggio, specialmente nel noleggio a lungo termine, sta diventando un attore importante nel tema della mobilità. L'arco di tre anni si è passati da 1.500 a 5.000 soggetti privati, non parliamo di partite IVA che oggi utilizzano i servizi di noleggio a lungo termine, vuoi per sopperire ai costi incredibili delle assicurazioni in alcune zone dell'Italia, vuoi perché anche grazie a delle offerte particolarmente alettanti vedono nel noleggio il garante di un servizio di mobilità e tolgono dei problemi. Pierluigi, un bilancio conclusivo di questa giornata, un appuntamento veramente importante dove a questo punto cosa ci si aspetta? Beh, ci si aspetta che la filiera dia seguito alla volontà della politica qui rappresentata da Daniele Capezzone e Silvia Fregolente di arrivare finalmente a qualcosa di positivo e concreto, cioè l'appoggio. La filiera deve appoggiare, sostenere questa proposta e non divagare inseguendo altri politici che sanno solo promettere ma non mantengono. Quindi crederci fino in fondo, Capezzone ha chiaramente detto che questo è un treno e se i treni non si prendono al volo si rischia poi di perderli per sempre. Il treno non bisogna perderlo, ma non devono perderlo neanche i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Approfitto la presenza di Pierluigi a conclusione di questo intervento, lo ribadisco ancora, durante il forum Automotive 2015 per andare a deleggere insieme a Pierluigi il vincitore di questo mese della nostra iniziativa di successo, Tester per un giorno. Allora, Pierluigi, in questa edizione abbiamo una vettura premium, la Land Rover Discovery Sport. Io so che tu sei un appassionato di fuoristrada anche, no? Non, diciamo, da fare percorsi super impegnativi apposta, però se capiti in una strada accidentata, se ti capita di arrivare in mezzo alla neve, se vieni colto da una pioggia improvvisa oppure da un asfalto melmoso, scivoloso, beh, questa vettura, questa Discovery è sicuramente una vettura che sa di traversare in queste situazioni difficili, grazie alla sua elettronica, grazie a questa monopolia che permette di passare da una funzione all'altra, sterrato, neve, ghiaccio, eccetera, beh, una macchina sicura. Tre finalisti, come sempre, per scegliere e leggere il vincitore, vado a elencarli velocemente, poi a Pierluigi la parola per nominare il fortunato vincitore che diventerà per un giorno giornalista. Allora abbiamo Stefano Musso di Torino, Simone Micci di Viterbo e Giovanni Dicello di Catanzaro. Abbiamo scelto tre persone che rappresentano un po' tre parti d'Italia, no? Nord, centro e sud. A chi, Pierluigi, l'onore di provare questa vettura? Vieto di dare la notizia, ma l'ingrato compito anche di annullare poi le aspettative di due persone. Allora, è risultato tester per un giorno Stefano Musso del 1972 torinese, impiegato è un appassionato di automobile e giustifica così come appassionato la sua richiesta di partecipare al tester per un giorno con una bella macchina questa Discovery Sport. E poi l'opportunità, come sempre, di realizzare un servizio televisivo, ma anche tre articoli, uno appunto per il giornale, nelle pagine motori proprio coordinate da Pierluigi Bonora e poi per i nostri media pattern Automobilismo e Pitstopadvisor.com. Allora, complimenti ancora Stefano, settimana prossima state con noi per osservare da vicino il servizio realizzato dal vincitore di questo mese. Pierluigi, grazie. Grazie a voi. L'appuntamento, sicuramente per il nostro prossimo appuntamento è per il mese prossimo qui a Save Drive e per invece il Forum Automotive probabilmente una seconda edizione. Autunno, in autunno, vediamo. Della seconda parte dell'anno. Vi cerco informati, c'è la nostra pagina Facebook, Forum Automotive, che vi può, diciamo, tenere informati sulle nostre attività, sui nostri dibattiti, ai quali vi preghiamo anche di intervenire. È hashtag Forum Automotive su Facebook. Grazie. Grazie a voi. A te la linea Elisa e proseguiamo pure con la puntata di Save Drive.